Tiziano Genovesi, eccolo qui in diretta su TV6, grazie Genovesi. Allora, il suo dato è un dato positivo, però ne parlavamo anche prima con Antonio Morgante, si paga questa divisione, questa frattura all'interno del centro-destra? Sì, l'avevamo detto dall'inizio che Forza Italia ha tradito la coalizione con la chiara volontà di portarci a una sconfitta certa. Non sono riusciti nel loro obiettivo, oggi siamo avanti di un punto percentuale in questo momento, questa mattina abbiamo avuto punti percentuali di vantaggio rispetto al nostro maggior competitor, Babbo, anche di tre punti percentuali, cerchiamo di portare avanti questo vantaggio per poter cogliere l'obiettivo, il primo obiettivo che è quello del ballottaggio. Lei parla di tradimento di Forza Italia, ma in vista di un eventuale ballottaggio, credo che l'obiettivo sia quello in un certo senso di ricompattare il centro-destra? Beh, io guardi, le dico una cosa che penso personalmente, chi tradisce una volta continuerà a farlo, quindi oggi dobbiamo cogliere l'obiettivo del ballottaggio, coglierlo con le nostre forze, coglierlo con una campagna elettorale a tratti entusiasmante, una campagna elettorale bellissima, questo centro-destra ha fatto una campagna di contenuti, ha fatto una campagna elettorale stando per la gente e tra la gente, quindi noi continueremo a veicolare quello che è il nostro messaggio politico. Una volta fatto questo, nel momento in cui andremo a cogliere l'obiettivo del ballottaggio e coglieremo l'obiettivo del ballottaggio, si aprirà una battaglia diversa, e quindi poi lì vedremo le alleanze e vedremo con chi apparentarci o si apparentarci con qualcuno. Si aspettava questo dato sicuramente molto positivo dell'ex sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio? Ma guardi, quando uno ha amministrato, quando uno fa otto liste, è numericamente possibile che ci si possa aspettare un risultato del genere. Io vorrei attendere questa sera la chiusura delle urne per vedere se Di Pangrazio è sopra numericamente alle sue liste o se, come è accaduto già l'altra volta, è nettamente sotto le sue liste. Quindi questa sarà la cartina di Tornasole per capire se Gianni Di Pangrazio è tornato a piacere alla città o se il trend è quello dell'altra volta, ovvero che lui non piace, ma è in grado solo di fare delle liste civiche per portare consenso al primo turno. C'è una domanda da studio. Linea a te, Andrea. Sì, certo. Allora giro la tua domanda, la tua considerazione. Tiziano Genovesi, ai nostri microfoni, poco fa da Chieti, il candidato della Lega, Fabrizio Di Stefano, parlando del dato proprio della città di Chieti, ha parlato di una forza propulsiva della Lega forse che non c'è stata fino in fondo anche con il dato nazionale delle regionali che ha visto, sì, risultati positivi ma forse non così positivi come ci si attendeva. Secondo lei sta accadendo anche questo ad Avezzano, come ha detto Fabrizio Di Stefano per le elezioni al Comune di Chieti? Guardi, per le analisi non è il momento giusto, nel senso che a chiusura dei seggi questa sera prenderemo i numeri, andremo a vedere quello che è stata la composizione della lista della Lega, quello che è il dato del centrodestra, faremo un'analisi numerica di quello che è accaduto e da lì potremo stilare quello che può essere accaduto sia in positivo che in negativo. Mi sembra realmente prematuro dover dare dei giudizi in un momento caldo come questo che comunque il dato è forviato ancora dalla mancanza di dati ufficiali, ci sono solamente alcuni seggi caricati, non ci sono tutti i seggi, quindi è veramente prematuro dover fare delle analisi di carattere politico, locale e di più ampio respiro a livello nazionale. Chiaramente ci saranno dei dati da dover analizzare, come partito ci metteremo seduti, Sì, sicuramente il nostro segretario regionale convocherà qualche riunione nelle prossime ore e poi da lì andremo ad analizzare quelli che sono i dati, quindi è realmente prematuro fare un'analisi, quindi io mi astengo da dover fare delle analisi di carattere politico. Ha avuto già modo a proposito di segretario regionale di ascoltare, di sentire per telefono Deramo? Sì, sì, siamo in contatto, sta seguendo la situazione di Avezzano, siamo in contatto telefonico molto stretto, lui è in Puglia per evidentemente impegni politici in Puglia e quindi però sta seguendo in diretta insieme a noi lo spoglio qui ad Avezzano.